wow è la partita la squadra però organizzato di nazionali di calcio della russia certo ora vado a giocare con il football ci sto certo ci sto bravo 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 mi prova lo scimmio gol wow che grande bravissimo sei tanto molto bravo certo ora hai vinto il trofeo grazie si ora torniamo a casa ci sarà la festa di compleanno della mamma si scimmia ci sarà la festa della mamma ma scimmia certo certo fai bussalo chi è sono da scimmia che cosa qui sei se non vedete la mia face ok la mia ha già dormito la mia chi è non è no one is safe, I'm getting out of here yay what's his appeal